E' la giovanissima Veronica Vasarri, la neopresidente dell'Arcigay di Arezzo, appena eletta nel congresso, che si è svolto domenica 11 gennaio. Le affronto con tanto entusiasmo, sicuramente, anche con un bel senso di responsabilità. Sono però tranquilla e contenta che c'è una bella squadra accanto a me, c'è Cristina Betti, la presidente uscente, che rimane ovviamente a far parte del gruppo perché è stata importantissima in questi anni. E poi ci sono dei ragazzi, ragazze nuovi, con entusiasmo, insomma, quindi speriamo di essere sempre di più a metterci la faccia in prima linea, insomma, per portare avanti quello che sono i temi dei diritti civili per le persone omosessuali e non solo. Unioni, allora, omosessuali, questo è uno dei temi più dibattuti, più importanti. C'è stata addirittura una direttiva qualche mese fa del ministro Alfano, che tu ricorderai bene. Arezzo e i suoi candidati a sindaco come si pongono su questo tema? Guarda, siamo stati contenti di avere comunque ieri la partecipazione di molti esponenti politici della città, tra cui uno dei candidati a sindaco, che è Matteo Bracciali, il quale ha mostrato segni di apertura e di disponibilità, soprattutto al tema delle trascrizioni dei matrimoni omosessuali celebrati all'estero. E noi su questo saremo pronti a, diciamo, istruirlo un po', a farci conoscere e soprattutto anche a pungolarlo, perché è notizia recente che appunto una coppia di ragazzi si è sposata in Portogallo e quindi li sosterremo nella, diciamo, sia con assistenza legale, nella richiesta anche della trascrizione qui ad Arezzo. Quindi, insomma, c'è un registro per le unioni civili qui in città da tanti anni, è però un registro un po', diciamo, vecchio stile, meramente simbolico, che è stato anche purtroppo poco utilizzato e quindi dovremo magari insieme all'amministrazione, rivedere quella norma, perché secondo noi, ecco, partire comunque dai comuni, dalle piccole comunità può essere utilissimo a fare pressione sul Parlamento, perché, insomma, adesso non ci può ignorare, nonostante la direttiva di Alfano, insomma, che è discutibile, è dire poco.